L'ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia, la cerimonia nell'uomo di Torino, una figura che divide. Record di passeggeri per l'aeroporto di Torino, nell'ultimo anno sono stati più di 4 milioni. Continua la protesta contro i casi di presunte molesti all'Università di Torino, la denuncia delle studentesse. Bentrovati e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Futura News. Apriamo il nostro telegiornale con i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, gente comune e membri di famiglie reali per la celebrazione in Duomo. Vediamo. Sono qua per mostrare la mia consolidità con il popolo italiano, da parte dei monarchici iraniani, come c'era sempre un'amicizia tra lo Shah dell'Iran, Muhammad Reza Shah, Shah dell'Iran con il principe Vittorio Emanuele. Nastaran è arrivata da Milano per l'ultimo saluto a Vittorio Emanuele, figlio dell'ultimo re d'Italia. Quasi un secolo di vita fra esilio e guai giudiziari, fino al rientro nel 2003. In centinaia, come lei, hanno seguito il tributo fuori dal Duomo di Torino. Ma l'impronta sabauda a Torino è visibile in tutti gli angoli. Se guardiamo qui di fronte abbiamo la cappella della Sinara, abbiamo il Duomo. Sono tutti simboli legati alla famiglia di Carasavola. Mi incuriosisce esserci quando sento che in questo momento, in questo evento, c'è qualcosa da captare, come un po' lo spirito del tempo, come o l'inizio o la fine di qualcosa. Resta il confronto sulla figura di Vittorio Emanuele. È da sciogliere il rapporto di Torino con il suo passato sabaudo. Se qualcuno viene a Torino si chiede ma che cosa hai visto a Torino? Molte delle cose che si vedono a Torino sono frutto di quella storia lì. Da Palazzo Reale, Musei Reali, Museo Egizio, Palazzo Carignano, le stesse vie, piazze, monumenti, tutto parla di risorgimento e di quella storia dove Savoia ebbe un ruolo da protagonista. Fare cancel culture in questo caso. Non aiuta nessuno, non ha alcun rilievo nel fatto di ricostruire onestamente con l'ostate intellettuale quella che è stata la storia di questa città. Desabaudizzare Torino non ha un significato, non ha senso, semmai non avrebbe senso neanche risabaudizzarla. Dopo la camera ardente a Venaria e l'addio in piazza San Giovanni, ora Vittorio Emanuele riposerà a Superga, vicino ai suoi antenati. Tensioni e scontri davanti alla sede RAI di Via Verdi a Torino. La protesta contro il comunicato dell'azienda che aveva preso le distanze dalle dichiarazioni di solidarietà a Gaza durante il festival di Sanremo. Un corteo ha sfilato per le vie del centro per poi concentrarsi davanti al centro di produzione. Lì sono partite quattro cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine. Il bilancio è stato di almeno tre manifestanti e sette agenti feriti. E continuano le proteste contro i casi di presunte molestie all'Università di Torino. Studentesse in sciopero e blocco delle lezioni. Vediamo il servizio. E' la violenza che ora vivo! Femminicidio! Basta violenza in università. Un messaggio, quello delle studentesse di Torino, che la scorsa settimana ha interrotto la seduta del Senato accademico e che ancora oggi continua a risuonare tra i corridoi dei dipartimenti e nei cortei che attraversano le vie del centro. La mobilitazione contro le molestie all'Università degli Studi di Torino è partita da studenti indipendenti. Il collettivo che mesi fa ha diffuso un questionario interpellando un centinaio di ragazze. Il 30% ha affermato di aver subito violenza fisica o psicologica in ambito accademico. Testimonianze che vanno da molestie più fisiche, quindi docenti che ci toccano le gambe mentre facciamo esami o durante il consiglio di partimento, a vere e proprie umiliazioni durante esami, non solo dalla parte docente ma anche, ad esempio, una testimonianza parla di un bibliotecario mentre invece altri parlano di studenti appunto dello stesso anno. Per quanto riguarda il personale docente, due i professori che sono stati accusati di molestie. Ai domiciliari Giancarlo Di Vella, professore di medicina legale nella facoltà di filosofia, sospese invece le lezioni di estetica per il professor Federico Vercellone, presunti responsabili di una violenza fisica e psicologica contro la quale i collettivi continuano a mobilitarsi. Martedì scorso, nuovo blitz di cambiare rotta a Palazzo Nuovo. Un professore si sente legittimato ad attuare questo tipo di molestie e violenze per il tipo di modello universitario in cui lavora. La realizzazione personale passa attraverso questa università come solo attraverso la carriera o l'arricchimento. L'università dovrebbe essere uno spazio in cui una studentessa o uno studente può sviluppare un pensiero critico. È un modello che permette questo tipo di violenza. Una ricerca sul mieloma multiplo promossa da una realtà torinese di eccellenza. È la fondazione EMN Italy Onlus che si occupa della ricerca nell'ambito delle patologie ematologiche e in particolare del mieloma. Lo studio è stato presentato a San Diego negli Stati Uniti. Una terapia di mantenimento per i pazienti affetti da mieloma multiplo che ha registrato risultati positivi in più del 50% dei casi. E ora l'economia. Numeri da record per l'aeroporto di Torino. Nell'ultimo anno più di 4 milioni di passeggeri. Vediamo. L'ingresso di Ryanair, l'aumento delle tratti internazionali e una visione orientata al futuro. Diverse sono le ragioni del successo dell'aeroporto Sandro Pertini, noto ai più come l'aeroporto di Caselle. I dati sono chiari. 4 milioni e mezzo di passeggeri nel 2023 e un aumento dell'8% rispetto al 2022. Londra, Parigi, Monaco, Madrid, ma anche Catania, Roma, Milano. Sono solo alcune delle mette più richieste dai torinesi e l'afflusso cresce sempre di più. Le rotte domestiche sono sostanzialmente tutte coperte. Qualcuna mancava. Una la copriremo ed è Comiso, un aeroporto che si sta molto sviluppando e che per la prima volta sarà collegato con Torino la prossima estate dal vettore volo TEA. C'è anche un nuovo volo per la città rumena di Bacau che sicuramente farà felice l'ampia comunità rumena che vive nel nostro territorio. Era richiesto e desiderato da tanto tempo. Il vettore Daner ha iniziato ad operarlo a dicembre e continuerà le operazioni anche nel corso dell'Ada. Oltre ai successi, il primato. Dall'anno scorso, infatti, Torino Airport è diventato l'aeroporto italiano con il più grande impianto fotovoltaico. 6.000 metri quadrati in grado di generare migliaia di megawattora di energia elettrica. Un traguardo questo che mette in luce la volontà della struttura di utilizzare soltanto energia green. E se le aspettative erano alte, prima di quest'anno adesso lo sono ancora di più. Da fine gennaio, infatti, è stato inaugurato il treno che connette la stazione di Porta Susa all'aeroporto in 30 minuti. Comodo, facile da raggiungere ed economico, il treno rappresenta una grande occasione per i torinesi ed ora è importante sfruttarlo nel modo giusto. In arrivo a Torino la seconda edizione del Salone del Vino in programma dal 2 al 4 marzo. Presenze raddoppiate con 500 cantine rappresentate e oltre 100 incontri che si divideranno tra le OGR e il Museo del Risorgimento. Celebrati anche a Torino i 100 anni della radio. L'occasione è stata la giornata mondiale del 13 febbraio istituita dalle Nazioni Unite. Per l'Italia quest'anno ha un valore particolare perché nel 2024 si celebrano i 100 anni dalla prima trasmissione dell'Unione Radiofonica Italiana. La RAI costudisce questa memoria nel Museo della Radio e della TV di Via Verdi a Torino. Ne abbiamo parlato con il direttore. In questo museo si riesce a vedere come è cambiata la fisicità dell'apparato. Credo che ci sia voglia di ritrovare una sincronicità di evento e di ascolto che crea comunità. Mi piace più pensare che la radio come anche la RAI, la televisione, possano unire comunità, gruppi, intenzioni. E questa era la nostra ultima notizia. L'informazione continua sul nostro sito futura.news e su tutti i nostri canali social. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.